Cara Ravarci, Macedonia, la razza principale, mi trovo nella regione vitivinicola di Vicknes, il lago Vicknes, Macedonia, stupenda questa regione del vino Vicknes, con il suo lago incredibile e le sue montagne, è l'alba, percorro le strade strade della Macedonia, strade difficili, l'alba impetuosa, il sole si alza sul lago Ticknes, sembra impossibile, sono in Macedonia, la diga del lago, si alza una leggera nebbia, la diga, la bellissima diga, e poi la natura incontaminata di questo bellissimo lago, sono sulla diga, immagini fantastiche del lago, la valle sottostante, sono a passo Pletval, Macedonia, sono nella piazza principale, le grandi emozioni di essere in Macedonia, seguo con la macchina, nebbia in Macedonia, sventola la bandiera della Macedonia a Macherosti Broad, a Prodo a Vitola, la via più suggestiva di Macedonia, bellissima moschea, simbolo di Vitola, l'attore dell'orologio, centro storico di Vitola, bellissimo custodiano principale, ultimo saluto a Vitola, sono nel sito archeologico di Iracrea Vincestis, Macedonia, piccola basilica, la grande basilica, questo bellissimo sito archeologico a Vitola, Macedonia, colpo d'occhio, l'anfiteatro, splendido, sono di Hobbit, in un contesto, è una tranquillità incredibile, lago Prespa, Macedonia, al confine con la Grecia, lago Prespa, Macedonia, il colpo d'occhio dall'alto, emozionando, una montagna di neve, al Galicia National Park, Montagne stupende, il gigantesco e bellissimo lago Oride, che separa l'Albania dalla Macedonia, è patrimonio dell'umanità, fantastico, da una parte opposta all'Albania, la strada a sbalzo sul lago, sono a Sant'Anaum, grandi emozioni, Sant'Aum Monasteri, Macedonia, sempre impossibile, il panorama sul lago dal monastero è incredibile, ancora ultimi scorsi, le montagne ariacenti, il pavone, si lamenta a volte, colori incredibili del pavone, l'immensità del lago Oride, il lago, la spiaggia, le montagne, dove ero prima, ero lassù prima, Trepea, e Macedonia, sono a Pestani, il mio arrivo ad Oride, è il tramonto ormai, laggio in fondo, il tramonto di Oride, il tramonto di Oride, ecco, il tramonto, fantastiche immagini, cattedrale di Santa Sofia, immagini stupende, la passeggiata che porta la chiesa di Cango, angoli di paradiso, uno dei monumenti più fotografati del Macedonia, il tramonto, la chiesa di San Giovanni Oride, chiesa di San Giovanni, con la musica della barba, Oride, ormai si sta abbuiando, ormai, ultime immagini, buio nero, castello di Ocrida, chiesa di Santa Ororbolica, c'è in giro Cane ad Ocrida, ultimi sconci di Ocrida, la via principale, ultimi saluti da Ocrid, Gostivà, moschea principale di Gostivà in Macedonia, sembra impossibile, Tetovo, coloratissima moschea di Tetovo in Macedonia, nebbia, nebbia nei pressi di Nis, in Serbia, nebbia, merosina, Serbia, procublie, Serbia, sventola la bandiera della Serbia, neve ai bordi, neve sulla strada neve Copa Onik National Park le montagne più alte della Serbia sono qua al confine con il Kosovo e ci sono anche le piste di sci e c'è anche la neve sui versanti nord eccole le piste di sci ancora immagini Copa Onik le bellissime case in legno di Copa Onik entro ora nel distretto di Rasca strade difficili, strade difficili sono in Serbia qui è quasi tutto pronto per la stagione sciistica qui in Serbia ultimo saluto al Kopenic National Park casette bellissime le casette bellissime di Copa Onik le mule del monastero di Studenica l'interno del monastero dipinti incredibili la favola del monastero di Studenica l'UNESCO ha detto che questo monastero è patrimonio dell'umanità Serbia la porta d'ingresso del monastero la bella facciata del monastero di Studenica il monastero di Studenica è ambientato in un paesaggio incantevole in mezzo alle montagne in Serbia le bellissime mura del monastero sono ai saluti finali riserva di Studenica il mio destino mi porta a Divanica sono a Kuka Serbia Kuka Udzice gigantesca questa cittadina al confine con la Bosnia e Herzegovina quasi Udzice un altro tramonto sono nel parco nazionale di Tara ormai il buio sta arrivando è l'hotel Omonka ultimi scocci del parco di Tara ma impossibile Devengrad famoso in tutto il mondo villaggio creato apposta per la vita è un miracolo il film più che altro è un miracolo che io sia arrivato a Devengrad case magnifiche sono in via Federico Fellini Devengrad Serbia Bergam Street la chiesa di Zatebo eccomi sono a Zatebo sono in Serbia Moschia del Sultano Valida Sielica Sielica deserta passaggio pedonale sembra impossibile Monastero di Sopocani l'ultima alba della Serbia le mura del monastero le mura del monastero l'ultimo saluto al monastero di Sopocani Novi Pazar Serbia i torri immagini di Stari Pazar città vecchia la via pedonale di Novi Pazar la via pedonale di Novi Pazar l'ultima immagini i piccioni i piccioni a Novi Pazar una marea più che nebbia il monastero di Ziva Serbia affreschi incredibili sono in Serbia sono a Clusevac in Serbia